I traffici illeciti di rifiuti sono un fenomeno criminale che non conosce pause. L'attività odierna ne rappresenta l'ennesima conferma. Ingenti quantitativi di rifiuti speciali, industriali, sono stati smaltiti ai danni della città metropolitana di Napoli presso l'impianto pubblico gestito dalla Sabna. Il tutto grazie alla compiacenza ben remunerata di alcuni dipendenti pubblici.